Un anno che è partito da aprile 2019 per concludersi a novembre, ma è stata poi prorogata fino al gennaio 2020, tutto l'anno di celebrazioni dedicate a Leonardo da Vinci. Un Leonardo da Vinci scientifico studiato dal museo, dal curatore scientifico Fausto Casi, a tutto tondo veramente per quanto riguarda la parte di matematica, astronomia, scienza in generale. Si chiuderanno sabato 18 gennaio le celebrazioni leonardiane nel territorio aretino con un evento targato MUMEC. Alle 10.30 al museo la presentazione del catalogo delle mostre redatto dal curatore scientifico del museo dei mezzi di comunicazione. Un anno che è piaciuto anche al pubblico perché abbiamo avuto in tutto questo periodo del 2020, 2019 un numero di visitatori insospettabili di 12.000, abbiamo superato i 12.000 presenze. Le tematiche che abbiamo voluto fare, presentare a questo pubblico, sono state molteplici, sempre sul settore scientifico relativo al personaggio leonardiano, che sono la prima, quello della divina proporzione, che vedete alle nostre spalle, i solidi che sono stati ricostruiti da Bruno Bruni prendendo i disegni di Leonardo, i 60 disegni di Leonardo che sono stati riportati in questo testo matematico del rinascimento del 1498 che è servito, diciamo così, a portare dal rinascimento in poi tutta la matematica che è stata raccolta lì da Luca Pacioli che tra l'altro è un personaggio del nostro territorio. Il secondo step che abbiamo voluto realizzare sempre sulla vita di Leonardo nel territorio retino riguarda la carta geografica della Valdichiana e abbiamo detto come ha fatto Leonardo per fare questa carta, ha utilizzato degli strumenti scientifici che fanno parte a alcuni di questi esemplari delle mie collezioni personali e l'abbiamo tirato fuori in questa occasione facendo il raffronto fra i disegni che Leonardo ha fatto nei codici di questi strumenti, che quindi lui ha utilizzato sicuramente e quelli veri che noi abbiamo messo in mostra nelle nostre vetrine.